Ciao amiche e ciao amici, come far sì che lui ti cerchi spesso? Ora, molte donne si lamentano del fatto che frequentano un uomo che non le cerca molto spesso, che magari non si fa trovare su WhatsApp, oppure che è in linea su WhatsApp ma non le cerca, che questa è proprio la cosa peggiore che possono fare, insomma, e magari non le invita neanche tanto frequentemente, eccetera, eccetera. Ora, dobbiamo tenere presente questo, che per l'uomo c'è sempre intanto un'idea di conquista, quindi infatti se voi pensate a quando quest'uomo qua magari vi ha corteggiato all'inizio, si faceva sentire, cercava di inseguirvi, cercava di... mandava messaggini carini, insomma, era disponibile. Succede spesso questo, perché, diciamo, è l'istinto del cacciatore, l'istinto della competitività. Nel momento in cui è avvenuta, diciamo così, la conquista, tutto decade. Questa è proprio, diciamo che è una spinta istintiva del maschio. Però puoi agire proprio sul suo istinto per fregarlo, tra virgolette. Perché, sempre a livello istintivo, esistono due tipologie maschili fondamentali. Quelli che non avvivere direttamente questa competitività con la donna, quindi cercano di conquistare una donna e sono competitivi con lei. Significa che nel momento in cui l'hanno conquistata non si vivono più la competizione e si staccano. Per cui restano sempre agganciati e tendono sempre alla conquista di donne che non dimostrano di essere coinvolte con loro. Quindi, questa tipologia lo capisci subito perché nel momento in cui ti dimostri meno coinvolta, quell'unica volta che lui ti invita o ti manda un messaggio e non gli rispondi, ti dimostri indifferente, quando gli parli usi un tono di voce da scazzo proprio, insomma, far vedere che ti sta noiando, gli sbadigli in faccia, allora loro diventano competitivi e inizieranno a fare di più, a cercarti di più, a volerti vedere più spesso. Un'altra tipologia invece maschile è quella degli uomini che sono competitivi con gli altri uomini e quindi hanno paura, il cacciatore diciamo che ha paura che l'altro cacciatore gli freghi la preda. E allora invece non è che vivono la competizione direttamente con la donna, ma soltanto attraverso un altro uomo. Quindi hanno paura di perdere la preda, tra virgolette, nel momento in cui c'è qualcun altro che va a caccia di questa preda. Per cui in questo caso gli antagonisti sono la cosa migliore. Però deve essere chiaro che non devi essere tu andare a corteggiare altri, altrimenti risulti essere zoccola, diciamo così tra virgolette. Devono essere altri che vengono a corteggiare te. In questo modo diciamo che attivi subito questo meccanismo istintivo di ricerca per cui lui vorrà vederti, cercherà di avere più contatti con te, mandare più messaggi. E questo lo capisci basta introducendo un antagonista. Quindi le due modalità sono in un caso ti dimostri scazzata, tra virgolette, nei suoi confronti. Nell'altro caso fai intervenire degli antagonisti che ti cercano. E vedrai che o uno o l'altro lo becchi. Per cui una volta che hai beccato quello giusto, poi sai ogni tanto come andare a martellare. Non è che costantemente devi avere antagonisti o costantemente devi sbandigliarli in faccia. Però ogni tanto devi inserire questi elementi che fanno sì che lui sarà sempre motivato a cercarti, a cercarti anche spesso. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale potrai fare una domanda e ricevere un video di risposta. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale. La domanda devi farla nei commenti dei video. E se questo video ti è piaciuto, metti un like, un mi piace qua sotto e poi condividi questo video con tutti i tuoi amici nei social, Whatsapp, Facebook, Twitter e quant'altro. Ciao!